Allora ragazzi bentornati su Ghouls & Ghouls, episodio numero 5, siamo nell'ultimo livello, la cattedrale del male, ma ovviamente non sarà davvero l'ultimo livello, perché come sappiamo il gioco non finisce dopo aver sconfitto Astaroth, magari fosse così semplice, vi pensate che in 5 episodi era già tutto finito? No, assolutamente. No, ma beccato, eh qua è difficile ragazzi, la cattedrale del male è veramente infernale, fa pure rima. Abbiamo iniziato bene la puntata, eh, da paura proprio. Sono diventato paperella, mi hanno ammazzato, perfetto. Lì morì, lì morì e non vuoi morire. Non vuoi morire? Oh è moruto, è uno. Dai vi qua, vi qua. No. È moruto anche lui. Ok. Come se è tra un po' inizio con i save stealth ragazzi, eh, se no qua non si è cavato un ragno dal buco. Sì! Siamo riusciti a sconfiggere due demoni insieme ragazzi, grande, dammi l'armatura. Perfetto. Dai, stavolta stiamo andando veramente bene. Questa qui è la fase che ricorda, se ricordate, ehm, in Ghost and Goblins c'erano gli ultimi livelli, c'erano quelli con questa, questo palazzo del, del male, con tutti questi piani da superare. livello che poi era stato uccidato anche in Beyond the Ice Palace per Comor 64. No, ma lo, ma lo piace qui là, io mi apio. E che potente. Strano che con la sua accettata non ha ucciso il dragone, ce la doveva fare. Questa che ho fatto una cazzata a PS accetta. Sì, ho fatto una cazzata, decisamente ho fatto una cazzata a PS accetta. Era meglio se rimanevo con i frisbee. Allora, qua in stile proprio Rastan ragazzi, ricordate Rastan? Qua è uguale. Mamma mia. Ecco Astaroth. Questa è la sua prima incarnazione, eh. Non finisce qua ragazzi. Ah, questo qua è uno dei mini Astaroth, perché dopo c'è quello grosso. Perché qua diventa un nemico normale, sì sì, mi ricordo. Qua dopo a un certo punto viene attaccato a due insieme, adesso si fida una mignota. Quindi io ti pensavo, ah ho finito il gioco. No, corcacchio, è solo iniziata l'avventura ragazzi. No, attenzione, due boss del primo livello uguali. Due gemelli demoniaci. Difficile, oh. Sono due braccia interrate nel... Nell'arcade mi pare che fossero proprio tutti e due interi. Invece qua solo ci stanno solo i bracci. Mi pare, me potrei sbagliare. Comunque siamo a metà del livello ragazzi. Senza usare save states, eh. Qua mi ricordo da quando lo finivo da ragazzino, sto gioco che... Debbiamo aspettare le tre palle, eccole. È una fatta cazzata. Devi aspettare ancora dopo, infatti. Scappa. No. Mi ha bruciato il deretano ragazzi, non ci posso credere. Vai, continuiamo. Secondo credito per questa... Per questa puntata. Aspettiamo qui. Vai su. Ok, perfetto. No. Quanta naffa. Ok, questa l'abbiamo superata. Qua ci sarà il mago, sicuramente. Ho fatto un po' per otto. Dai, che il tempo passa. Su. No. E' un'andato? Quando rimane con solo diventa molto più facile, eh. Perché non si muove, non è come quello del primo livello che ti investe. Questo qui se ne sta fermo lì. Ma guarda se muore. Oh, gliel'ha fatta morire. Ok, è schioppato il muro a destra. Possiamo proseguire. Ma io qua, ragazzi, che sta tranquillo, un save state se lo faccio, eh. La gara F5 che serva. Ok. Ok. Oh. Damm'armatura? Ecco qua, arrivano due aste a rotta a romperli coglioni. Oh niente, non gli riesco a fare niente di danno proprio, eh. Ne passa uno ogni 200 dei colpi. E uno è andato? Sì. Ci abbiamo fatto, ragazzi, incredibile. Io quasi quasi risalvo pure qua. Sperando che poi non ci serva a ricaricare il salvataggio, eh. No, com'era? Ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Scusate, ragazzi. Problemi tecnici, andiamo avanti. Allora, qui c'è stato il boss della nuova, però in versione piccolina, vedete? Perché ce ne sono due, eh. Ecco, non me la ricordavo sta cosa. Ce ne sono due, eh. Questo sarebbe da combattere qui, perché ci stanno i dislivelli. Questo è da combattere sui dislivelli, perché è inutile che ve lo dico. Ah, su tre, su. Non mi ricordavo sta, non lo so, ragazzi. Perché sul dislivello te la puoi giocare, no? Tipo, va un po' su, va un po' giù, salti, fai. Come torna... Eh, guarda, da cacchio ci fa, ricominciavo. Allora, provo a non usare i save states, eh, ragazzi. Senza salvataggi. Cioè, vaffan... Eh, no, allora, allora, ma sta a chiamare. Allora li devo usare, vaffanculo. Allora, torniamo qui alle nuvole. Ma qua si poteva pure... Mi pare che si potevano anche... Bypassare ste nuvole, se non mi ricordo male, eh. Allora, però questo era veramente un grande giocone, ragazzi. Veramente fatto bene, bene, bene. No, ecco le nerte, le capuccione. Allora, riprendiamo da indietro. No, non carico, eh. Carico solo quando mi fanno un cazzato, va bene? Sennò proviamo a farla... A fare la run pulita. Ok, cosa ho fatto? Zompa! No! Mi hanno rifato tutta la strada. Darmi armature. No! Era un mago. E mi hanno fatto un cazzato. Io ricarico la posizione, allora. Allora, proviamo a prendere uno alla volta. A fare uno alla volta, dai. Se ci lasciano, perché qua uno alla volta non ti attacca mai. Ti attaccano sempre in coppia. Quindi sono come i coglioni, sono sempre in coppia. Allora, mo, rifacciamo senza trucchi. Vediamo dove arriviamo. Mamma porca! E niente, l'hanno fatto un cazzato. F8, vai. Ma perché devo essere così deficiente? Ma è difficilissimo. Eeeh, torniamo indietro. Dai, dai. Ok. Corri, corri, corri. Corri, corri. No, troppo, non te lo anticipavo, troppo. Qua ci sarà il mago, ovviamente. E noi ricarichiamo con F8, perché mi sono stufa. Ok. Aspettate un attimo, stavo a sistemare una cosa sul computer. Ok, andiamo, andiamo. Io provo a passare avanti, proprio a bypassare. Perché mi ricordo che io sul Mega Drive avevo una volta, ma ho fatto questa cosa così, a bypassare proprio alla codardo. Niente, non funziona. Troppa gente. Troppa gente, veramente. Dai, dai. Dai, dai. No! Mani morti... Disgraziato, dei morini. E' o lì. Ammar madura. No, niente armadura. Sono vecchietto, ragazzi. Sono dietro dove, ecco. Che vuoi la mia dentiera? Ok, sottrono giovane, benissimo. Andiamo avanti. Sì. Eh, salta il zonpa. Salta il zonpa. Sì, è uno andato. Me la sparai due insieme. Ma che è sta magia, oh? come cazzo che me ne è sparato assieme? no ma era un bug come cazzo che me ne è sparato assieme? ho mai visto sta cosa qua rigeno i due stronzi l'armatura per noi e uno è andato devi stare a distanza giusta se no non lo becchi i due sono andati senza trucchi eh questo prova ad essere molto cauto molto cauto ne ho sbloccato uno solo pare no ecco l'altro stronzo dove arriva l'altro? no mi pare giusto no 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 fulminoso ma pure l'altro è diventato fulminoso uno l'ho schioppato attenzione uno l'ho schioppato no non è arrivato un altro mortacci su qua ok dai 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 si stavo dicendo ovviamente il rasoio di occam non era una parolaccia era occam vedi rasoio di occa capite? andiamo ragazzi andiamo andiamo allora qua ci sarà lo spadone che non voglio non lo voglio lo spadone ma sarà meglio lo spadone o c'ho sto dubbione vabbè noi andiamo avanti così armatura d'oro ti dico bloccati qua dovrebbe fare l'esplosione no? si esplosione scendi giù vai che ti sparo questa esplosione guarda che gli ha fatto tanto danno gli ha fatto due buffetti no l'armatura d'oro è la mia no ma le va d'armatura d'oro li mortacci ma in realtà ti abbiamo ammazzato guardate questa specie di di idolo pagano tipo Cthulhu è una specie di crocefisso degli antichi di Ourfield Powercraft crocefisso blasfemo qua ne riesco a capire questa ecco boss il signore delle mosche portaci sua ma ma sfornato vediamo po' se mi fa ricominciare dal boss si fortunatamente fa ricominciare dal boss invece Super Ghost in Ghost non fa ricominciare dal boss infatti il bastardissimo ragazzi comunque alla fine qua ci sono arrivato senza senza trucchi eh perché non ho usato una delle diciamo sono riuscito a passare qui ad arrivare a questo punto senza usare un caricamento ok quindi però finora senza trucchi porca puttana sì perché ragazzi se uno salva e carica poi il trucco ma io ho salvato e ho caricato però poi sono morto sono tornato indietro è come se fossi morto e quindi ho fatto tutta una tirata senza i save states che arriva qua quindi oh no no difficile sto boss ragazzi me lo ricordo dai su su no devo saltare dai dai siamo un passo dal boss finale che però mi pare di ricordare che non ce lo vuole far combattere perché bisogna fare due giri del gioco per riuscire a combatterlo ma perché le mosche stavano alte teoricamente non mi do non prende ma vaffan allora ragazzi per questa volta è tutto noi ci vediamo al prossimo episodio di Goals and Go ciao ragazzi alla prossima